Buon pomeriggio, sono le 15.07, apriamo la seduta della Commissione di oggi. Procedo con l'appello e la solita comunicazione per chi dovesse aver bisogno di giustifica di volermeno comunicare per l'appunto. Buongiorno, presente con giustifica delle 15. Buongiorno, alle ori. Buongiorno, presente dalle 15, con giustifica, grazie. Orrelli Buongiorno, presente dalle 15. Cerisola Buongiorno, presente dalle 15, con attestazione, grazie. Sucunato Presente con giustifica, grazie. Grazioli Al momento, Sottillo Presente Ok, procedo a una seconda chiamata per il consigliere Graziali Prego Presidente, a lei la seduta Grazie Passiamo al punto 1 del verbale numero 38 del 12 ottobre 2023 Ore 15 in cui abbiamo l'esame delle possibilità di sviluppo della geotermia nel municipio Romano Noeuro e l'esame degli interventi PNRR in municipio Romano Noeuro e l'oro messa a terra. Sono presenti Fabio Ecca, i consiglieri alle ori, Borrelli, Cucunato, Sottillo e Grazioli. Consigliere Cerisola entra alle ore 15.48. La segretaria verbalizzante va da Sorriente. Sorriente mi sembra con due ore. Sorriente? Dopo le modifiche apportate in lettura. Presidente apre il punto 2 all'ordine del giorno, l'esame della possibilità di sviluppo della geotermia nel municipio Romano Noeuro. Presidente Ecca fa una breve introduzione alla geotermia spiegando che è un'altra fonte rinnovabile che invece di catturare il calore del sole utilizza quella della terra. Inoltre comunica voler richiedere l'intervento di qualche studioso di geotermia perché è molto importante tracciare una mappatura di terreni e il territorio in prospettiva di un utilizzo sul nostro municipio. Anche se un impianto geotermico è costoso, molto più dei pannelli solari, ma di ampio impiego nel riscaldamento di scuole, centrenziani, edifici pubblici e altro, ma soprattutto a differenza dei pannelli fotovoltaici che dopo 25-30 anni devono essere sostituiti, la geotermia è potenzialmente inesauribile. Segue anche illustrazione e spiegazione, alle ore 15.48 si collega il consigliere Cerisola. In attesa degli invitati il Presidente Ecca passa il punto 4 all'ordine del giorno, cioè l'esame posta. Il Presidente Ecca chiede che la posta venga messa agli atti. Alle 15.58 si interrompe la registrazione per una pausa in attesa del collegamento degli ospiti, mentre entra il Presidente della Commissione PNRR, Capitolina, Dottor Caudo, e la Presidente Municipio Nono Eur di Salvo e l'assessora Angelo C. La Commissione riapre alle ore 15.59. I lavori procedono con un punto terzo all'ordine del giorno, esami e interventi PNRR, Municipio Romano Nono Eur. Interviene il Presidente Ecca e fornisce un aggiornamento dettagliato sui lavori e interventi finanziati dal Piano Nazionale che andranno a interessare il Municipio Romano Nono Eur. Segue lettura e illustrazione. Interviene il Presidente Municipio Romano Nono Eur e ringrazia il Presidente Caudo per aver fornito le giuste informazioni sui progetti, tra cui anche la scuola di Via Comisto 23, portando a conoscere una discussione in assemblea pubblica abbastanza complicata, e io direi più che complicata forse partecipata, sostituirei, prodotta da alcuni cittadini che non sono d'accordo sulla collocazione dei due servizi finanziati che occuperanno metà della struttura. Comunica inoltre la presenza di un'istanza di sospensione presso il TAR, presentata dagli avvocati che rappresentano questi cittadini e si attende l'esito della sentenza. Interviene il Consigliere Cerisola, che chiede dei fondi da destinare al Museo della Civiltà Romana, chiuso per problematiche legate alla variazione della normativa antincendio. Auspica la riapertura a cittadini, studenti e turisti di questa meravigliosa vitrina sulla storia romana. Interviene il Consigliere Borrelli, in cui non è ancora presente la conferenza dei servizi. Segue un ampio dibattito sulle fasi di progettazione e fondi, alle ore 16.21 esce il Consigliere Curunato, il Presidente Ecca passa al punto, quindi qua c'era, manca la chiusura del punto, immagino verso le 16.30, una cosa del genere. Il Presidente Ecca passa al punto 5 alle varie eventuali, chiede se ci sono altri interventi, non ci sono interventi, quindi alle ore 17.05 il Presidente Ecca chiude la commissione. Ci sono modifiche al verbale? Diciamo molto, molto sintetico, quindi insomma... Per me va bene il verbale? Perfetto. Per me anche. Ok, gli altri consiglieri non obiettano, quindi possiamo dichiarare letto approvato il verbale. Per me va bene. Ok, passiamo al punto 38, visto che è già presente il Dottor Auletta, che è inerente al punto 2 all'ordine del giorno, ovvero all'esame di una proposta di formulazione. prego consigliere Alleori? No, a fronte... Scusi Presidente, a fronte di quello che abbiamo letto nel verbale, i lavori di via Comisso sono quelli fatti con i soldi del PNR? Lo conferma di questo? Sì, 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 quella era un passaggio, era una seduta dedicata all'audizione di Caudo, tutta sul PNRR. Ok, grazie. Prego. Allora, dicevo, per il punto 2 all'ordine del giorno, abbiamo il Dottor Auletta, del coordinatore dell'ecomuseo virgiliano, che ha ideato un percorso che interessa anche il nostro municipio, ma che in realtà si interessa anche altri municipi e altri comuni. faccio una breve presentazione anche dello spirito di questo punto all'ordine del giorno. È un progetto che ricalca, mutanda mutandis, quello della variante paolina, la via francigene del sud, in cui l'ascolto da parte dei cittadini proposte provenienti dal territorio dei cittadini per eventualmente implementare gli interventi finanziati dal fondo giubileo in una dimensione per lo più internazionale. Da un punto di vista strettamente, diciamo, questo attinente al punto del, a questo secondo punto all'ordine del giorno, la rotta di Enea, che ci illustrerà adesso il nostro ospite, è appunto una rotta internazionale, che tra l'altro interesse riguarda solo paesi o appartenenti all'Unione Europea o associati all'Unione Europea. Partendo sulle orme del racconto virgiliano di Enea e della Windy, collegata alla fondazione di Roma, parte ovviamente dalla città di Troia, nell'attuale Turchia, paese associato all'Unione Europea, passa poi alla Grecia, paese membro dell'Unione Europea, raggiunge quindi l'Albania, paese associato all'Unione Europea, va attraversa quasi il Mediterraneo, raggiunge la Tunisia, altro paese associato all'Unione Europea, per raggiungere poi in Italia, fino a raggiungere poi il Lazio, prima lo sbarco, mi sembra verso dalle parti di Ardia, insomma da un punto di vista, poi mi correggerà il dottor Alec, fino a raggiungere, diciamo, nel nostro territorio e poi concludersi in qualche maniera, secondo, diciamo, i racconti virgiliano, il racconto virgiliano, proprio con la fondazione di Roma e quindi insomma la storia che conosciamo, la storia, la leggenda, insomma quello che... pensare a percorsi anche per i pellegrini, che ricalcando la storia, le leggende di Roma o che collegano Roma a un circuito internazionale, secondo me è pienamente attinente al giubileo della speranza e all'intervento numero 73, mi sembra che sia, che è appunto quello dei percorsi dei pellegrini, che è già menzionato nel secondo DPCM dell'8 giugno 2023, che oramai sappiamo a memoria, è che appunto è quello che sancisce quelli che sono gli interventi, diciamo, finanziati dal giubileo in attesa forse di un terzo DPCM sull'argomento. Io quindi mi chiedo qua, lascio la parola al dottore Auletta, che ringrazio per essere venuto qui e per, diciamo, illustrarci la sua idea e la sua proposta che immagino poi verrà anche illustrata anche agli altri municipi e ha avuto già interlocuzioni anche in Campidoglio, quindi insomma siamo un tassello di un più grande mosaico che stiamo cercando di comporre. Prego, dottore Auletta. Grazie per l'invito. A cucina a fondo. Sì. Ci sentite? Sentono, sì? Sì, sì, sentono, sentono. Allora, io sono Giosuè Auletta e sono il coordinatore dell'Ecomuseo Lazio Virgiliano, che è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro, riconosciuta dalla Regione Lazio come istituzione museale territoriale che fa parte dell'organizzazione museale regionale. Sono stato uno dei promotori della legge sui Viacomusei che è stata approvata nel 2017 e quindi abbiamo avuto riconoscimento come istituzione museale territoriale. Perché sono qui? Grazie all'invito del Presidente Eckhart. Perché nel 2021 la Comunità Europea, il Consiglio d'Europa, ha approvato il 45esimo itinerario culturale europeo che comprende cinque paesi del Mediterraneo, come diceva appunto Fabio Ecca, che sono la Turchia, la Grecia, l'Albania, l'Italia, la Tunisia. Questo percorso viene chiamato la Rotta di Enea e fa riferimento all'Eneide di Virgilio. L'Enea di Virgilio è uno dei più grandi capolavori della storia diciamo della letteratura mondiale e quindi sono stati ricostruiti i luoghi del viaggio di Enea appunto dalla Turchia fino ad arrivare nell'Eneide alla Foce del Tevere. La parte che più ci riguarda è proprio il Lazio Virgiliano perché nella seconda parte dell'Eneide Virgilio racconta la storia di questo territorio prima della fondazione di Roma. e quindi e voi avete proprio nella sede del vostro consiglio municipale avete una carta dove sono proprio segnalati i popoli dell'antico Lazio e quindi ci sono soprattutto il territorio del nono municipio è proprio al centro di quello che è il Lazio Virgiliano e c'erano gli antichi popoli come gli aborigini insomma una storia veramente straordinaria che vale la pena veramente di conoscere per valorizzare fino in fondo tutte le caratteristiche di questo territorio diciamo sulla riva sinistra del Tevere e l'itinerario che noi abbiamo creato si chiama Tourneide e bisogna dire una cosa che qui nel nono municipio passano due vie che sono l'antica via Arviatina e l'antica via Laurentina che collegavano Roma con i luoghi delle origini soprattutto con l'Avinium la città appunto di Enea ma anche nel territorio proprio del nono municipio ci sono due antichissime città una che è quella lì nell'area archeologica Acocetosa Laurentina dove hanno fatto delle scoperte straordinarie con delle tombe ricchissime poi un altro luogo è quello che è stato scoperto dove c'è Castel di Decima e poi soprattutto c'è un luogo nel nono municipio che Virgilio di cui parla Virgilio nel settimo libro delle Naide che è Albunea che è la grotta di Pauno che è la solforata oggi viene chiamata la solforata di Tomezia ma in realtà sta invece nel territorio del nono municipio e a proposito appunto di di geotermia ecco noi siamo alle pendici di un vulcano però molto spesso siccome questo territorio è diviso tra tanti municipi non c'è una visione complessiva e questa visione complessiva è arrivato finalmente il momento di averla soprattutto per valorizzare cosa ogni luogo nel suo contesto di appartenenza l'altra cosa molto importante è che è stata approvata Roma Caputamundi col PNRR e in base che cosa prevede questa Roma Caputamundi prevede di aumentare significativamente il numero di complessi turistici disponibili e resi accessibili creare valide e qualificate alternative turistiche e culturali rispetto alle afforate aree centrali e che cosa ha previsto che sono che delirino esattamente quello che noi abbiamo chiamato l'ecomuseo del Lazio vigiliano quindi luoghi come per esempio nel nono municipio che sono stati finanziati tipo il museo della città romana ma poi anche c'è la villa romana di Spinaceto veramente insomma tutti luoghi straordinari che finalmente possono essere messi a sistema a sistema l'ultima cosa che voglio dire queste cose che sto dicendo le abbiamo già presentate il 14 aprile quando al Casale della Massima c'è stato un incontro a questo incontro ha partecipato la Presidente del nono municipio Titti Di Salvo e anche l'assessora Angelucci e in questa occasione diciamo abbiamo cercato di entrare nel concreto cioè che cosa possiamo fare insieme con una visione complessiva del territorio e la Presidente del nono municipio a un certo punto ha detto il nostro è un territorio molto esteso il più grande dei municipi al pari con il quindicesimo municipio all'interno del suo perimetro geografico convivono quartieri e storie diverse con propria identità ma l'identità del municipio è da costruire e da raccontare e in primo luogo al suo interno e c'erano delle linee guida quello della costruzione dell'identità del territorio quella della riconoscibilità della promozione del territorio anche all'esterno e poi quello della individuazione della moltiplicazione degli spazi diciamo legati alla conoscenza anche del patrimonio culturale l'ultima cosa che vorrei dire è che quello che noi proponiamo si ispira alle linee guida progettuali del Campidoglio per i municipi quando parla di museo diffuso e che cosa questa direttiva diciamo queste linee guida che cosa prevedono tre cose fondamentali l'obiettivo della presente iniziativa progettuale quindi fa scoprire conoscere e valorizzare le bellezze dei territori legando la presenza del patrimonio artistico al ruolo attivo della cittadinanza chiamata a partecipare alla valorizzazione dei territori stessi poi si reputa pertanto necessario attivare un programma di azioni integrate su base territoriale volte a valorizzare il patrimonio culturale presente nei diversi municipi con l'obiettivo di incrementare la partecipazione dei cittadini e accrescere la conoscenza dei luoghi si tratta di raccontare e valorizzare il patrimonio culturale diffuso trattando in tal modo specifiche anni della città come un museo aperto godibile da tutti gli interessati noi come museo Lazio Vigiliano abbiamo un'esperienza educativa di come è possibile diciamo attuare tutto questo a cominciare soprattutto dalle nuove generazioni quindi coinvolgere le scuole e poi l'altra cosa che abbiamo ideato e che vogliamo proporre e che qui sono venuto a proporre è che lungo il percorso abbiamo creato il percorso della Ghiatina Laurentina che passano appunto nel nono municipio e questi percorsi lungo questi percorsi c'è di tutto e noi abbiamo cercato di mettere a sistema tutto quello che si trova lungo questi percorsi in 12 percorsi di visita integrati quindi quello che si tratta di fare è che quelle stesse cose poi siamo andati a presentarle nell'ottavo municipio abbiamo parlato con l'assessore della cultura nel decimo municipio e adesso le andremo a presentare anche in Campidoglio però volevamo che tutti quelli che vivono in questo territorio avessero coscienza del grande valore del territorio dove loro vivono e di tutto quello che noi possiamo fare anche in vista appunto di come diceva il presidente Ecca del Giubileo grazie grazie mille non so se ci sono consiglieri che vogliono fare un intervento io mi sento di precisare alcune cose così mettiamo delineiamo diciamo bene cosa potremmo fare anche noi come commissione e quindi come municipio da proporre in consiglio vi sono tre punti cardine che interessano la tourneide cioè il percorso diciamo virgiliano chiamiamolo così a iniziare tutte e tre sono caratterizzati da un elemento comune che è quello dell'acqua il tema dell'acqua che questo municipio ha affrontato anche nelle politiche nel consiglio tematico sulle politiche dell'acqua in cui avevamo individuato proprio l'acqua come uno strumento attrattivo per il turismo sostenibile lento è quello che come sappiamo diciamo genera diciamo permette al territorio di entrare in un rapporto sinergico con i pellegrini o con chi diciamo percorre quei sentieri proprio l'acqua è il tema sostanziale per cui si potrebbe ad esempio ipotizzare un percorso che parta da Castello della Cicchignola dove voi sapete che è una diciamo quella che era originariamente una una chiesa fortificata più che castello a Castello della Cicchignola attivo fin dall'antica Roma sostanzialmente anche perché posto un pochino su una collina mentre il territorio di Spinaceto era ancora per lo più paludoso e che rappresentava l'avamposto anche divisivo divisorio tra la grande palude di Ostia sanate sostanzialmente solamente nel 1900 e diciamo la parte più coltivabile che andava dietro la collina quindi che da Castello della Cicchignola Castello di Decima scusate e Vitina che è lo stesso che si prolunga portava alla zona più sana più salubre da là non a caso partiva l'antica laurentina che passava sotto Castello di Decima e la memoria storica anche nel territorio di Spinaceto e conservata dalla torre Brunori l'antica cisterna non a caso cisterna poi trasformata in un che serviva sostanzialmente a monitorare il traffico pedonale carrabile che si dirigeva verso diciamo anche i castelli l'area che noi oggi chiamiamo Castelli Romani e fino alla grande area dell'appunto Solfatara che è il secondo luogo del nostro municipio un luogo da un punto di vista storico straordinario perché c'è naturalmente la grotta del Fauno ma soprattutto nella Solfatara la Solfatara era per tutta il periodo prima repubblicano e poi imperiale dell'antica Roma era la sede dove gli eserciti dell'antica Roma si fermavano dopo le battaglie di ritorno della battaglia ed erano obbligati dall'alex romana a fermarsi per 40 giorni perché i soldati i centurioni romani si devono immergere nella Solfatara nelle acque piene di zolfo per depurarsi completamente e quindi non portare malattie dall'estero dalla Gallia o da da altri territori non portarle fino a dentro Roma non a caso nella zona della Salfatara è considerata dopo i fori imperiali Largo Argentina il centro storico di Roma uno dei giacimenti di rilievi archeologici rive alla Salenti all'antica Roma più importante ancora oggi è sovente che alcuni agricoltori magari arando o scavando un pochino più in profondità il terreno trovino diciamo memorie della presenza di duemila anni fa dell'esercito romano naturalmente il terzo luogo è appunto quella che era dalla grotta del fauno della Salfatara quella che invece sorge accanto all'attuale via Laurentina che è appunto l'acqua cetosa ostiense noi la conosciamo oggi più che altro per la vecchia fonte San Paolo ora chiusa perché è sostanzialmente inquinata ma comunque sia la presenza di quella fonte testimonia la ricchezza di acqua ecco appunto perché la presenza l'acqua come minimo comun denominatore di questo ipotetico percorso che stiamo delineando dico della fonte San Paolo definiamola così ma più per estensione della riserva acqua cetosa laurentina si sta occupando anche con alcune proposte la commissione seconda però e quindi sarebbe anche interessante capire se si può unire le due istanze e cercare di mettere a sistema il tutto naturalmente poi l'acqua rimarrebbe ma questo non è di pertinenza del nostro municipio perché caratteri più o meno analoghi sono anche per l'ottavo municipio ma più in generale per tutta la città di Roma che come sappiamo diciamo è nata sull'acqua attraverso il Tevere non solo ma soprattutto è nata con l'acqua nel senso che l'acqua non è solamente stata la principale fonte di approvvigionamento idrico per la crescita di Roma ma non a caso insomma una delle prime conquiste dell'antica Roma era l'antica Sabina dove ricco territorio quello del Riatino molto ricco di sorgenti d'acqua che servivano poi serviranno poi per diciamo rifornire i primi acquedotti che i romani costruiranno proprio per alimentare Roma insomma si tiene un pochino tutto da questo punto di vista io vi vi lascio però la parola non so se ci sono consiglieri che vogliono intervenire se avete diciamo se siamo stati soprattutto io perché il dottore Auletta è stato molto chiaro insomma se però siamo stati diciamo esaurienti se ci stanno di punti diciamo prego consigliere Cerisola scusi avendo il cellulare lavorando col cellulare alcune cose mi sfuggono prego consigliere Cerisola sì grazie 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 di tutte le formazioni anche la dovizia di particolari che abbiamo potuto ascoltare ora le parentesi che sono state aperte sono state sicuramente molto molto utili hanno arricchito informazioni però hanno anche rischiato insomma di farci perdere un parvolta al filo del discorso ecco io vorrei chiedere gentilmente se può per favore ricapitolarci questo itinerario cioè noi abbiamo sentito sia le dimensioni sovranazionali cioè appunto Turchia Grecia Albania e poi Tunisia e sia diverse località che sono state citate del nostro del nostro municipio ecco però se era possibile avere un'idea proprio del tracciato ora so che lei ha caricato sulla piattaforma su Microsoft Team del materiale ma avendo avuto delle altre sedute non ho non ho non ho avuto modo di di poterlo consultare quindi probabilmente la risposta alla mia domanda già già c'è insomma però ecco anche a beneficio del verbale o della della registrazione quindi dei cittadini che volessero risentire insomma la registrazione volevo appunto chiedere se era possibile avere una idea riassuntiva unicamente dell'itinerario dentro il nostro municipio grazie presidente ok grazie a lei consigliere in maniera molto estremamente sintetica Castello della cecchignola grotta del fauno solfatara e pontostiense acqua cetosostiense diciamo per punti riprendendo le antiche via laurentina e ardatina come percorso diciamo ideale c'è da fare una precisazione vorrei soltanto dire che il percorso fa parte appunto di turnede e riguarda appunto diversi municipi diversi comuni c'è bisogno appunto di vedere una cartina guardando la cartina si vede molto bene che noi quello che vogliamo valorizzare è tutto quello che c'è in un territorio e che può essere sintetizzato nella parola paesaggio e il percorso che riguarda appunto il nono municipio per esempio nono municipio ci sono città antiche ma anche città nuove tipo l'Eur insieme a Pomezia insieme ci sono praticamente tutta la storia del territorio dal punto di vista geologico archeologico verrebbe valorizzata con questo tipo di percorsi e poi c'è la villa appunto di Spinaceto ma poi ci sono praticamente le abbazie c'è l'abbazia per esempio appunto dove c'è dell'acqua adesso non mi viene il nome delle tre fontane sì l'abbazia delle tre fontane per esempio cioè quello che noi vogliamo fare è mettere a sistema tutto quello che normalmente viene isolato facendo perdere valore a tutto quindi per la prima volta si tratterebbe di mettere insieme musei città antiche testimonianze di storie più recenti come l'Eur insomma castelli casali ad esempio sempre in nono municipio c'è la Domusculta che si trova alla Solforata che è straordinaria non so se la conoscete la Domusculta che tra l'altro è un bene culturale insomma di importanza sì quindi adesso sarebbe troppo lungo ricordare tutti questi luoghi solo il problema è che voi veramente state al centro di tutto il nono municipio sta al centro di tutto e volevo dire un'altra cosa a proposito dell'acqua che è veramente il tema fondamentale perché il nono municipio è caratterizzato dalla presenza di due bacini idrografici quello di Valerano e quello di Manafete che tra l'altro nascono sui cogli albani quindi è assolutamente necessario avere questa visione complessiva anche perché altrimenti si rischia di fare degli interventi che sono frammentati settoriali e molto spesso non riescono a risolvere il problema io penso che sia arrivato veramente il momento di avere questa visione complessiva che poi Virgilio nell'Eneide ha chiamato lo sguardo della Dea perché ha immaginato una Dea che guarda da Monte Carlo che si vede anche da Monte Carlo anche dal vostro territorio che guarda questo territorio e questa Dea riesce a vedere le cose non soltanto nello spazio ma anche nel tempo quindi noi ce la stiamo mettendo tutta è necessario che ognuno di noi faccia la sua parte nel luogo in cui vive coinvolgendole ho detto tutti i cittadini che in questo territorio ci vivono e che molto spesso come dicono appunto le direttive del Campidoglio insomma molto spesso si vive in un luogo che non si sa non si conosce la realtà che ci circonda grazie ok ci sono altri consiglieri prego consigliere Borrelli si grazie presidente molto telegraficamente per associarmi alle parole che sono state pronunciate per condividere la suggestione di chi ha ascoltato diciamo questa proposta proposta che a me sembra veramente visionaria ma nel senso buono e compiuto del termine cioè che lega diciamo origini storia natura cultura territorio provando a costruire o ricostruire diciamo meglio i fili di identità molto spesso percepite come scomposte o magari anche ignote di chi vive certi territori non vivendo fino in fondo le origini degli stessi come filo conduttore è assai accattivante il tema dell'acqua tra l'altro di questi giorni una proposta su una possibile diciamo fruizione a uso balneare del laghetto dell'euro dico questo perché da articoli giornali leggevo che si implementerebbe la suzione cioè l'utilizzo dell'acqua proprio dell'area diciamo della cecchignola quindi colgo l'occasione anche per condividere diciamo questa riflessione sull'onda lunga di un ragionamento che abbiamo già compiuto nel consiglio tematico sull'acqua e su un'ipotesi anche di rinaturalizzazione del fosso della cecchignola magari ragioniamo se può essere anch'essa l'occasione per un approfondimento più fattivo sulle modalità attraverso cui si può appunto riavviare questo percorso di rinaturalizzazione al di là di questo mi sembra molto interessante l'idea e parteciperei volentieri e penso che faremo una cosa gradita qualora riuscissimo ad approfondirla e a concretizzarla grazie grazie consigliere altri consiglieri che vogliono intervenire noi naturalmente poi ci confronteremo con il presidente Palmieri che è il titolato della presidenza della commissione capitolina che sta seguendo questa cosa però innanzitutto mi premeva rendere partecipi almeno i componenti di questa commissione di questa proposta e poi analizzare se e come noi come municipio possiamo supportare il presidente Palmieri per quanto di nostra competenza territoriale a realizzare la tourneide il percorso virgiliano io vi ricordo che nei fondi giubileo ci sono stanziamenti per la cartellonistica che possono essere anche richiesti e indirizzati da questo punto di vista vi ricordo naturalmente che da un punto di vista sostanziale anche insieme al presidente Palmieri si può organizzare un approfondimento da parte del Campidoglio sul nostro municipio dipendente anche da adesso in questa commissione e che comunque appunto ripeto quello che dicevo all'inizio della presentazione di questo secondo punto all'ordine del giorno noi dobbiamo diciamo provare secondo me a sfruttare il giubileo anche per potenziare il meccanismo di turismo lento che porta una ricchezza diffusa ai territori non solo concentrati come sosteneva giustamente il dottor Auletta nel centro storico ma appunto quasi su tutto il territorio e soprattutto è un modo anche sostenibile permettetemi la ripetizione anche di sostegno a per esempio le nostre attività le attività commerciali locali bar ristoranti bed and breakfast cioè c'è un mondo quello del turismo lento che la via francigena da questo punto di vista insegna così come anche gli altri percorsi che abbiamo visto diciamo quando abbiamo affrontato il rapporto con l'associazione europea via francigene c'è un mondo che è sempre più numeroso e animato che si attiva attorno a questo tipo di valorizzazione del territorio così come è avvenuto per la via francigena dove laddove è passata nei territori dei comuni anche più piccoli dove passa la via francigena ha portato indubbiamente una ricchezza diffusa e non permettete concentrata nelle mani di pochi diciamo magari persone o società magari neanche italiane ecco quindi crea posti di lavoro tra l'altro ed è pienamente sostenibile perché non prevede la realizzazione di edifici o di altro ma semplicemente la polarizzazione di quello che c'è o è rimasto rispetto ai pieni edilizi che ci sono stati nel corso dei decenni quindi lo possiamo affrontare anche proponendo al presidente Palmieri magari elaborando delle proposte per supportare la sua azione per mettere a terra il tournei del percorso virgiliano ci sono altri interventi se il silenzio immagino che sia perché siamo stati esaustivi permettevi guardo un attimino ok allora mi sembra allora che se non ci sono altre domande o altre diciamo richieste io ringrazio innanzitutto dottor Rauletta che ci ha presentato diciamo la proposta appunto i documenti li trovate su Teams noi seguiremo questa cosa questa proposta anche confrontandoci col Campidoglio e monitoremo anche eventualmente per valorizzarle poi magari chiedo adesso la disponibilità anche per un ulteriore eventuale incontro nel caso in cui mi fassi con la testa quindi immagino che sia un consenso va benessimo allora facciamo non ci sono interventi facciamo 5 minuti di pausa ci riprendiamo alle 15 e 55 ok interrompo la registrazione